Signori benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi sono qui a parlarvi di una cosa veramente bruttissima perché come avrete visto negli ultimi giorni c'è stato un crollo incredibile di una criptovaluta chiamata Luna Prima di incominciare come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un bel like e anche un bel commentino magari dicendomi cosa ne pensate dell'argomento in questione, soprattutto se ci avevate investito, anche se io mi auguro per voi di no Per prima cosa iniziere a spiegarvi nel dettaglio che cosa è successo perché ho visto che in molti hanno realizzato video, storie eccetera hanno soltanto mostrato il crollo che c'è stato ma non il motivo che c'è dietro Precisamente non possiamo sapere cosa è successo ma ci sono alcune teorie, alcune spiegazioni che sono abbastanza valide che io ritengo opportuno spiegare e per capire il tutto è meglio spiegare che cos'è l'ecosistema Terra Allora in pratica possiamo vedere Terra come un'azienda, per esempio la Apple e questa azienda sviluppa un progetto e questo progetto si chiama UST Sarebbe una stable coin con quindi l'obiettivo di replicare sempre il valore del dollare quindi deve stare intorno ai 99 centesimi, 96 centesimi Comunque il cambio euro-dollaro cambia sempre quindi siamo intorno ai 96 centesimi in questo momento Ma perché parliamo di Terra e perché è sceso così tanto il suo prezzo? Beh semplicemente perché la criptovaluta Terra è come se fossero le azioni dell'azienda Terra Infatti se Apple facesse una cavolata, lanciasse un iPhone bruttissimo che si rompe dopo un mese o cose di questo genere tutti gli investitori andrebbero a vendere le azioni e ci sarebbe quindi un crollo del prezzo Poi non è un esempio perfettamente calzante perché comunque con le cripto c'è molta differenza non parliamo semplicemente di azioni o di un'azienda come Apple che fa un iPhone che non funziona potrebbe tranquillamente riprendersi, creandone un altro e così via Qui parliamo di soldi, certo gli iPhone costano soldi però capite che è una cosa differente Noi con Luna parliamo di soldi dal punto di vista dell'investimento c'è la gente che ha investito veramente tanti dei suoi soldi e nel momento in cui succede un danno di questo genere la gente non potrà mai recuperare i suoi soldi come avrebbe potuto fare un consumatore Apple che compra il telefono e se è rotto glielo riparano Quindi c'è una grossa differenza però è giusto per farvi capire il concetto di cosa succede a ciò che rappresenta un'azienda quindi nel caso di Apple le sue azioni e nel caso di Luna le sue cripto E appunto è successo che tutti dopo che hanno visto che è successo quel disastro con UST hanno deciso di vendere Luna continuamente quindi il prezzo è andato letteralmente a zero Ma cosa è successo a UST? Beh praticamente questa criptovaluta o meglio questa stablecoin è legata al dollaro tramite un algoritmo Questo algoritmo si basa anche sul possesso di Bitcoin che ha Luna Infatti Luna era una delle più grandi aziende al mondo a possedere Bitcoin ne aveva veramente tantissimi e questo per fare in modo anche di controllare quelli che sono i loro UST Il problema però nasce dalla vulnerabilità che ha Infatti nel momento in cui Bitcoin sarebbe crollato tantissimo UST sarebbe stato a rischio perché il PEG ovvero il collegamento L'algoritmo che mantiene il prezzo degli UST al dollaro rischiava di essere rovinato Di essere perso e quindi succedere ciò che è successo Ovvero che la stablecoin Luna non avrebbe più avuto il valore del dollaro Quindi il croll esattamente a cosa è dovuto? È dovuto ad alcune società di investimento che si ritiene siano state BlackRock e Citadel Anche se non c'è la certezza semplicemente alcuni tweet che le accusano Però appunto non abbiamo la certezza E che cosa hanno fatto? Hanno preso in prestito 100.000 Bitcoin E di questi 100.000 Bitcoin cosa hanno fatto? 25.000 li hanno subito scambiati in UST In questo modo hanno preso già molta della liquidità disponibile per UST Perché comunque 25.000 Bitcoin valgono parecchio come ben saprete Parliamo infatti di 750 milioni di euro E quindi hanno preso molta della liquidità totale Poi che altro hanno fatto? Si sono offerti di vendere alcuni altri Bitcoin a un prezzo ridotto al proprietario di Luna Lui chiaramente è accettato perché lui tenta sempre di accumulare più Bitcoin Se può accettarli a prezzo ridotto lo fa E nel momento in cui li hanno venduti poi sono andati a rivendere tutti quegli altri Che avevano andando a far crollare il prezzo In questo modo loro avevano guadagnato una grossa parte della liquidità di UST Poi il proprietario di Terra Luna che si chiama Doquon Aveva appunto ridotto anche lui la quantità di UST per andare ad acquistare dei Bitcoin In questo modo si era ridotta di molto la quantità Nel momento in cui loro sono andati a scaricare tutti i Bitcoin che avevano Si è abbassato il prezzo di Bitcoin e quindi c'è stato il problema del DPEG su UST Allora la gente ha iniziato a prelevarli tutti perché la gente manteneva tutti gli UST su Anchor Protocol Non so se la conoscete ma era una DeFi che permetteva di ottenere rendimenti annui sugli UST del 20% Che è una cosa abbastanza insostenibile come potrete immaginare Però prima di questo nessuno lo pensava Vabbè qualcuno si perché comunque era lungimirante Però la maggior parte delle persone ritenevano che fosse affidabile e sicuro Ci hanno investito per mesi E nel momento in cui si sono ritrovati a vedere tutto quello che sta succedendo hanno preso il loro UST e li hanno venduti E hanno anche venduto i terri Quindi c'è stato questo collasso generale E ogni giorno ogni giorno continuano a collassare di più Si è abbassato da 80 dollari a 30 dollari a un dollaro Adesso siamo a un millesimo di centesimo forse Ed è stata proprio tutta questa strategia organizzata al dettaglio Dalle grosse società di investimento che è riuscita a far collassare tutto il sistema Infatti avevano previsto praticamente ogni mossa che ci sarebbe stata Tra cui quella degli investitori di Anchor Protocol Di andare a ritirare tutti i loro averi, tutti i loro UST E che questo avrebbe creato un grossissimo problema Perché chiaramente non essendo sostenibile la piattaforma Che dava 20% di interesse nel momento in cui tutti andavano a ritirare Sarebbe collassato tutto E così è stato Quindi poi c'è stato un sell off generale di Luna, di Anchor Perché anche Alcor ha una sua cripto Di UST E quindi è stato a creare un collasso generale che ha colpito veramente tutto l'ecosistema Ma soprattutto anche i portafogli degli investitori E veniamo appunto adesso a vedere quanto ho perso io Ma anche quanto hanno perso altre persone Infatti ci sono stati youtuber come Kaye Sai Non so se lo conoscete Che era veramente uno dei più grandi ai tempi Tipo nel 2015-2016 Dove faceva video di calcio su FIFA Cosi di questo tipo Poi ha fatto tantissimi soldi Ha fatto altro, canzoni eccetera Ed è diventato un grosso investitore di cripto E con Luna lui ha perso circa 3 milioni di dollari in un giorno, in due giorni E' uscita addirittura tempo fa una notizia Che in realtà spero sia una fake news Però non ho la certezza E che certificava il fatto che 8 persone si sono suicidate a causa di Luna Infatti c'erano persone che hanno investito tutti i loro risparmi O comunque gran parte dei loro possedimenti e della loro liquidità in Luna Perché si vedevano nel progetto E perché credevano nella cripto E si sono ritrovati a non avere più nulla in tasca Quindi la loro vita praticamente è rovinata Cioè tu lavori una vita per risparmiare E viene tutto rovinato da una cripto E questa è veramente una cosa che è assurda Cioè la gente che si è ammazzata per questo A me ha fatto veramente malissimo vederli Io come ho detto spero che non sia così Però penso che possa esserci qualcuno che l'abbia fatto Considerando che le perdite sono state così ingenti Che qualcuno magari si era investito tutto quello che aveva da rimasto senza niente E inoltre volevo dirvi che tutte le persone che avete visto Che dicevano sì ho venduto prima Non era sostenibile Tutte queste cose Non credeteci troppo Non sentitevi gli unici stupidi Se voi avete magari investito in Luna e poi avete perso soldi Perché in realtà era imprevedibile una cosa del genere Nessuno sapeva che una società di investimento Avesse potuto prendere 100.000 Bitcoin E fare tutto quello che vi ho spiegato Semplicemente chi ha disinvestito prima Magari lo ha fatto per fortuna Semplicemente non ha mai investito in Luna E vi sta solo dicendo le cose per farsi sembrare intelligente E quindi chi non aveva investito prima O semplicemente non l'ha fatto per fortuna O chi ha venduto prima l'ha fatto ed è stato fortunato Ha avuto il tempismo giusto anche se lui non sapeva nulla O un'altra cosa è semplicemente che questi soggetti Avevano magari investito in Luna in passato E avevano già venduto O non avevano mai investito in Luna Ma si sono inventati che avevano venduto tutto prima Anche se non era vero Tanto le prove non le possiamo avere Quindi si inventano queste cose giusto per avere più seguito O fare più click eccetera E io so che può essere frustrante Vendere tutta questa gente che dice Sì sì ho venduto ieri perché lo sapevo E ho venduto una settimana fa perché lo sapevo Quando tu ti ritrovi a perdere 1000€ Beh questo è per dirvi che la maggior parte delle persone Tipo il 99% che riconoscono sta cosa Stanno dicendo delle cazzo Perché non è assolutamente vero Ci può stare che in un caso su 100 qualcuno abbia venduto per fortuna e basta O in alternativa chi non credeva ai rendimenti del 20% Perché li teneva troppo alti può aver ragione Ed è una cosa che riconosco Però la maggior parte delle persone non ha ragionato così Arriviamo adesso a vedere quanto ho perso io Perché comunque il titolo del video è una cosa che sarà interessante per molti Allora io in realtà non ero un grande investitore di Luna Infatti avevo tipo investito 10€ Vi lascio anche qui magari lo screen così lo vedete Ho investito 10€ in Luna Quando stava intorno agli 80$ se non erro E l'ho fatto perché mi stavo iniziando ad interessare alla cripto Luna E perché volevo un po' diversificare i miei investimenti Infatti io posseggo buona parte delle cripto che ci sono in top 10 E dato che ritengo comunque le cripto della top 10 a essere sicure Volevo diversificare e andare a investire anche su quelle che non possiedo È stata un'idea pessima Però chiaramente non si poteva prevedere come ho già detto più volte Sì il protocollo aveva delle vulnerabilità Era rischioso eccetera Ma chi poteva prevedere una cosa del genere Col senno di poi è facile dire tutto Però se ci pensate un mese fa nessuno avrebbe mai detto Che sarebbe successo una cosa di questo tipo Anche perché se ci pensate I crolli iniziali di Bitcoin e delle altre cripto Sono derivati dalla situazione che c'è per esempio in Russia O dalla situazione dell'inflazione molto alta Che sta condizionando i mercati Ma se questa non ci fosse stata Magari le vulnerabilità di terra sarebbero venute a galla Fra uno o due anni addirittura Quindi davvero non era una cosa prevedibile Come vi dicevo ho investito circa 10 euro in luna Quando questa valeva 80 euro E questo è inutile dirvi che si sono bruciati in tempo Uno o due giorni Poi qual è stata la mia grandissima idea Proprio da genio del mondo Ho detto beh luna è scesa a un dollaro Cosa posso fare? Posso reinvestire magari 50 euro, 60 euro Che se tornasse anche per sbaglio a 80 euro Ma magari anche di meno a 50 euro Comunque avrei avuto un guadagno pazzesco Cioè investendo 50 euro Luna tornava a 50 euro Comprandola a un euro Succedeva che avevo più di 2500 euro Solo investendone 50 Che è veramente fuori da ogni immaginazione Ho detto va bene lo faccio E quindi cosa ho fatto? Mi sono messo lì una sera in cui ero tipo un dollaro e venti E ho comprato 60 euro di luna Fatto sta che la mattina dopo mi sono svegliato Non avevo più niente perché luna era sceso da 1 euro A 6 centesimi E ho perso tutto in una notte Poi durante quella giornata luna è scesa ancora Verso il centesimo circa E io non avevo venduto nulla perché avrei perso tutto Quindi non avevo venduto nulla Ho detto c'è incrementiamo un pochino Dato che avevo comprato la sera prima Mi pare 47 luna o poco più adesso non mi ricordo La mattina dopo ne ho comprati più di 100 Perché comunque il prezzo si era abbassato di molto Ho investito circa 15 euro Ne ho comprati più di 100 di luna E dicevo beh se dovesse tornare a 1 euro O a 10 euro a 100 Così io farei un sacco di soldi Fatto sta che luna è crollata Adesso non so nemmeno quanti zeri Ci siano davanti al valore Sembra diventato una shitcoin tipo Shiba Inu Che non capite nemmeno qual è il suo valore effettivo Tipo 3 o 4 zeri davanti E qui niente scesa ancora Ho perso anche con gli ulteriori 10 euro Quindi in totale la mia perdita Monta intorno agli 80 euro Più o meno 90 euro Anche se la maggior parte sono tutti fatti di gambling Se voglio dire così perché è proprio stata una scommessa Come andare a grattevincio O far la schedina proprio buttarli via Nella speranza che sarebbe risalito Però non avevo alcun motivo per cui pensare Semplicemente ci ho sperato E mi son buttato così E ho detto vabbè Amen Fortunatamente quel giorno ho fatto anche altri investimenti in crypto Come sapete il mercato era crollato E quelle per fortuna sono risalite E quindi da lì ho tamponato la mia perdita E sono andato in pari Però capite che è stata veramente una grandissima cavolata Quella che ho fatto Perché speravo semplicemente che risalisse Ma non avevo basi Non avevo motivi per crederlo Ho semplicemente pensato che Dato che la community di Luna era così grande E era una crypto con tantissima attenzione Era probabile che poi avrebbero ricominciato a investirci O semplicemente speravo che UST avrebbe recuperato il PEG Quindi tornando a un dollaro E poi la gente avrebbe ripreso fiducia nella piattaforma E avrebbe reinvestito Infatti nel giorno precedente C'era stato il crollo di UST Ma poi era arrivato fino a 80 centesimi E ho detto perfetto ci siamo quasi E niente poi adesso è tornato a 11 Quindi proprio non ci siamo assolutamente Inoltre guardavo i tweet del possessore di Luna Che si chiama Docuon O però il creatore O come lo volete chiamare E lui sosteneva Sì sì che Luna tornerà Adesso stiamo facendo un piano di recupero Continua a fare tweet lui Però non si fa nulla La situazione è sempre ferma Io va bene Le mie Luna le ho tenute Anche perché ormai non le potete più vendere Su quasi nessuna piattaforma Sono state dell'istate ovunque Su Binance sono rimaste con il cambio dei BSD Che sono i dollari di Binance O su Crypto.com mi sa che non sono più scambiabili Io chiaramente le ho comprate su Crypto.com E quindi ce le ho lì Ora valgono qualche centesimo Me le tengo Ma mi interessa poco ecco Perché ormai la lezione l'ho imparata Quindi il video direi che è finito qui Vi ho detto quello che ci teneva di raccontare Su tutta la situazione E farvi capire quello che era successo Perché come vi ho detto in molti Non l'hanno spiegato bene E secondo me era necessario farlo Per capire cosa c'era dietro Io spero quindi che questo video sia stato utile Che vi abbia aiutato a capire Cosa è successo Che vi faccia anche essere un po' più responsabili Per il futuro Anche se non era prevedibile Ma parlo di responsabilità Riguardo a quello che ho fatto io Perché immagino di non essere stato l'unico E niente Scrivetevi nei commenti voi Se avevate investito Come è andata Se avete venduto tutto prima del crawl E queste cose qui Fatemi sapere Spero appunto che nessuno ne abbia investito Come ho fatto io Perché è stata venuta una cagata Quindi niente Vi invito ancora a lasciare un like E ad iscrivervi E noi ci vediamo al prossimo video Pensatemi bene E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video Ciao